Inizia il corso di disegno per i bambini! Inizia il corso di disegno per i bambini. Non sarò sola in questa mia avventura, verrò accompagnata dal mitico Tito che mi fungerà da spalla per insegnare ai più piccoli a disegnare. Sarà un corso di disegno e creatività mista, quindi ci saranno anche delle parentesi di pittura e delle parentesi anche di manipolazione e creatività varia, perché non voglio annoiare i bambini, quindi voglio tirarli verso il variegato mondo di arte per te, fare conoscere loro molte tecniche funzionali sempre allo sviluppo della tecnica del disegno e quindi aspetto i bimbi. dai 5 anni ai 13-14 anni, va bene? Perché dopo poi sono grandi, magari si annoiano a fare il corso di disegno, ma se vogliono partecipare benvengano. Allora, quindi aspetto questi bimbini, il corso costerà 150 euro e andrà da gennaio, quindi dal ritorno delle vacanze di Natale, fino a giugno, compreso il tutto giugno. In modo da fare un bel escursus di disegno con un appuntamento che sarà una volta alla settimana, il venerdì pomeriggio. Quindi loro tornano da scuola, molti hanno la settimana corta, il venerdì pomeriggio è una giornata abbastanza libera, lo farò nel pomeriggio abbastanza presto, in modo da non bloccare il pomeriggio dei genitori, non lo so, magari lo faremo dalle tre alle quattro o dalle quattro alle cinque. Ora vedremo. Aspetto i vostri piccolini, numerosi, regalate loro un corso di disegno a Natale, regalate un'esperienza, regalate una crescita, una formazione, regalate loro una cosa molto importante, cioè il senso di usare internet in maniera attiva, costruttiva e non in maniera passivamente recettiva. Fate in modo che loro possano trarre da internet quello che è un accrescimento personale, possano conoscere altri bambini, seppur a distanza, tutti controllati in un certo qual modo dal filtro di Arte per Te. Possano quindi interagire in maniera sicura su internet, finché naturalmente saranno sui miei canali, poi se faranno altri gruppi al di fuori del mio canale, come dico per gli adulti, dico anche per i bambini di quelli, io non posso essere responsabile in alcun modo, ma vorrei accanto a loro, naturalmente essendo un minore davanti a un teleschermo, anche un genitore. Un po' per aiutarlo, un po' per controllare i meccanismi che si vengono a creare, un po' per aiutarlo a digitare quando dovremo chattare, un po' per capire cosa faremo e per valutare in maniera attiva il corso di disegno, perché io voglio che sì i bimbi siano felici, ma voglio che anche i genitori siano contenti del loro piccolo investimento, perché è veramente un piccolo piccolo investimento. Bene, quindi aspetto tutti i vostri figli, i vostri nipotini, potrebbe essere anche un momento bellissimo per nonno e nipote, o nonna e nipote, nello stare davanti al pc e dedicare un pomeriggio alla creatività, quindi fare la lezione, poi dopo successivamente sviluppare il manufatto, ci vedremo, naturalmente le lezioni saranno svolte così. Ci sarà una prima parte in chiaro in cui parlerò dei lavori fatti nella settimana precedente, perché voi cosa faremo? Assegnerò un compito, vi spiegherò come farlo, lo svilupperete e lo posterete sulla mia pagina Facebook. Dopodiché io li correggerò tutti e vi dirò ad uno ad uno cosa sistemare. Sarò molto schematica nel dirvelo, quindi fai questo, questo, questo e questo. Dopodiché ci vedremo nel giorno prestabilito, quindi il venerdì, facciamo finta che abbia già deciso che sia alle 15, il venerdì pomeriggio alle 15, faremo una prima mezz'oretta in chiaro su YouTube, dove possono vederci tutti e dove io dico cosa avete fatto, cosa migliorare, dove vi spiego una lezione un po' più ampia e dopodiché andremo in privato, solamente noi in classe, nella nostra classe, dove mi vedrete in diretta a spiegarvi passo passo come sviluppare il compito per la settimana successiva. E lì ci sarà anche Tito a sviluppare il compito con noi. Chissà cosa farà quel pasticcione, già immagino che ne farà di ogni. Bene, allora venite tutti al corso di disegno di Arte per te con ombretta, con Tito e con i vostri genitori o i vostri nonni. Vi aspetto. Le iscrizioni si apriranno da gennaio, cioè potrete effettivamente fare il versamento per iscrivervi da gennaio, ma potete cominciare a prenotare il posto per i vostri piccolini mandando un messaggio sulla pagina Facebook di Arte per te. vi lascio il link qua sotto in cui date la vostra prenotazione e vi verrà mandato di contro la modalità di pagamento e la lista delle cose da acquistare per poter far parte del corso di disegno per i piccoli. Non vi preoccupate, molto probabilmente avranno già tutto dal corredo scolastico, ma naturalmente devo darvi un insieme di cose da farvi avere per poter partire tutti assieme, tutti contemporaneamente col corso. Ovviamente i corsi non sono rimborsabili se ci ripensate, come un corso in palestra, come un corso in piscina, una volta iscritti si è iscritti e questo deve servire proprio da sprone per A. decidere quando si è veramente convinti e B. continuare malgrado qualche piccola difficoltà si possa incontrare lungo il percorso. Non piccola difficoltà intendo che magari ci sono cose un po' difficilotte da dover superare, ma non c'è crescita senza qualche piccolo gradino da superare. Proprio questo voglio estillare ai vostri piccolini, il fatto che in una società che ha tutto subito, tutto adesso, con il disegno non si può avere questa cosa. Bisogna ritornare all'attesa, alla concentrazione, alla non distrazione. Vedrete, avranno un grande giovamento in tutti gli ambiti della loro vita da un po' di disciplina dettata dall'arte. Una disciplina creativa fatta di colore, introspezione, comunicazione, tante belle cose che ci divertiremo a sviluppare insieme. Aspetto numerosissimi i vostri piccolini. Mi raccomando, mandatemi tanti messaggi sulla pagina Facebook di Arte per Te. È un bellissimo regalo di Natale. Un grande bacio a tutti. Vi aspetto qua per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Bambini, vi aspetto tutti. Alla prossima.